Otto grandi imprese italiane hanno deciso di investire nella città di Napoli per valorizzare una delle più grandi opere di arte pubblica italiana, con le stazioni progettate da molti architetti, tra i più importanti al mondo, che ospitano opere di cento autori di arte contemporanea e un grande patrimonio archeologico ancora da conoscere. È stato presentato all'interno degli scavi della stazione Municipio della metropolitana di Napoli, il MAM, la proposta di realizzare un museo aperto della metropolitana, un innovativo progetto unico al mondo, come sottolinea Ennio Cascetta ai nostri microfoni. Il MAM sarà un soggetto professionale che in modo professionale gestirà la manutenzione dei centosessanta pezzi di arte contemporanea che oggi sono esposti nelle stazioni e fuori dalle stazioni della metropolitana, di quelli che dovranno ancora essere inseriti nelle stazioni che si stanno costruendo della linea 6 e che valorizzerà questo museo appunto come un museo. La missione della futura fondazione MAM, un museo aperto della metropolitana, sarà quella di garantire un servizio di fruizione culturale gratuito, continuativo e innovativo. Il biglietto sarà quello per utilizzare la metropolitana. Non ci saranno costi aggiuntivi. Tante stazioni dell'arte che renderanno la metropolitana di Napoli la più bella del mondo. Armando Brunini di Gesac, partner dell'iniziativa, sottolinea Noi faremo parte della squadra come gli altri, siamo ben accompagnati, tante belle aziende che fanno parte di questa iniziativa. Credo che per noi sia un'iniziativa assolutamente coerente. Stiamo investendo in cultura, stiamo investendo in sviluppo del turismo in città. Questa è un altro attrattore che può ulteriormente valorizzarsi e rendere gradevole il soggiorno ai turisti. A noi fa piacere che sempre più turisti vengono a Napoli e trovino cose belle da vedere.